6 Ferrari, 2 Porsche, 70 scooter d'epoca, 31 Lambretta e 39 Vespe, 8 Rolex, 3 beni per complessivi 10 milioni di euro che la Guardia di Finanza ha sequestrato a Giuseppe Paparo, 53 anni, amministratore unico della Pagi Carburanti SRL che grazie a una galassia di società cartiere che ruotavano intorno, secondo gli investigatori è riuscito a evadere 10 milioni di euro d'iva a vendere prodotti petroliferi a prezzi addirittura più bassi di quelli d'acquisto, sbaragliando la concorrenza assumendo così nel giro di pochi anni una posizione monopolistica. A scoprire la maxievasione fiscale è stata la Guardia di Finanza di Napoli precisamente il secondo gruppo tutela e entrate del nucleo di polizia economico-finanziaria sotto il coordinamento della Procura di Nola guidata da Laura Triassi. Le vetture, finora 14 quelle sequestrate, i scooter d'epoca sono stati scovati dalle fiamme gialle in un mega garage sotterraneo tra i piani interrati di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, suddiviso in box con saracinesche telecomandate il cui colore fa pandan con quello delle prestigiose vetture parcheggiate.